cari fratelli e sorelle in cristo e il fratello frank che vi parla dal centro missionario internazionale di krefeld in germania noi guardiamo indietro a un fine settimana molto benedetto il popolo di dio si è riunito per ascoltare la parola di dio penso che eravamo qui da 22 differenti nazioni e cari il signore ha benedetto in modo potente abbiamo condiviso la preziosa parola il messaggio dell'ora sapendo che il ritorno di cristo la seconda venuta di cristo è molto molto vicina vediamo le profezie della bibbia che si adempiano con israele con le nazioni con la chiesa con la sposa di cristo il nostro dovere è di condividere gli insegnamenti originali degli apostoli perché la promessa è che dio avrebbe inviato qualcuno come elia per restaurare tutte le cose per riportarci al fondamento originale posto dagli apostoli e dai profeti una piena e completa restaurazione nel corpo di cristo il nostro signore è il primo e l'ultimo e la chiesa del nuovo testamento alla fine deve essere come era all'inizio e noi abbiamo la promessa sia in zaccaria capitolo 10 versetto 1 che noi dovremmo pregare per l'ultima pioggia quando il tempo arriva e anche in giacomo capitolo 5 versetto 7 e noi crediamo che dio ha mandato il suo servitore profeta per portarci il messaggio e quando egli ha portato il suo servitore nella gloria per la grazia di dio ha potuto portare il messaggio la vera parola l'originale parola di dio a tutte le nazioni intorno alla terra in tal modo la scrittura è stata adempiuta che in primo luogo il vangelo di gesù cristo deve essere predicato a tutte le nazioni e poi sarebbe venuta la fine alcuni lo riceveranno come testimonianza gli altri usciranno saranno restaurati e preparati per il ritorno di cristo ciò che mi fa così tanto male è conoscere e conoscere le differenti interpretazioni delle dichiarazioni che ha fatto il fratello brana e cari ho detto questo molte volte io ho conosciuto il fratello brana personalmente per dieci anni e semplicemente per menzionare questa esperienza nel dicembre 1962 quando egli mi disse fratello frank puoi predicare al posto mio a los angeles con demos shakarian alla riunione degli uomini d'affari del pieno vangelo io non posso andare il signore mi ha mostrato una visione circa sei mesi fa devo fare i bagagli e trasferirmi in arizona a motivo della visione che il signore mi ha mostrato e così egli mi chiese di andare a los angeles e predicare al posto suo nella caffetteria clifton cari io conosco queste cose che dio ha fatto ma poi quando per esempio una chiave è inviata da jefferson bill ai fratelli per aprire le scritture per apocalisse 10 versetto 7 o luca 17 versetto 30 o zaccaria o tutti gli altri passi delle scritture cari devo dire questo nel nome del signore avete bisogno di una chiamata divina per adempiere un ministero nella volontà di dio altrimenti facciamo un servizio a dio senza che ci sia la sua volontà e comunque lo dico con rispetto verso dio e anche in apprezzamento del ministero del fratello brana devo sottolineare che non è sufficiente enfatizzare luca 17 30 voi dovete leggere i versetti fino al versetto 29 e poi dovete leggere i versetti dal 31 per sapere precisamente dove quel versetto è collocato secondo il piano di salvezza allo stesso modo se leggete zaccaria capitolo 14 versetto 7 ci sarà luce al tempo della sera voi dovete leggere zaccaria capitolo 14 versetto 1 in cui sta scritto il giorno del signore viene dovete leggere il versetto 5 in cui sta scritto che in quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli olivi prima che leggiate il versetto 7 dovete leggere il versetto 1 dovete leggere il versetto 5 e dovete leggere il versetto 8 e gli altri versetto 7 per sapere precisamente dove collocare ciò che è promesso e che accadrà William brana era il profeta di dio e come sappiamo nel nuovo testamento 845 volte vengono utilizzate le scritture dell'antico testamento per dire ciò che dio ha dovuto dire nel nuovo testamento allo stesso tempo voi lasciate tutte le cose dove e come erano la stessa cosa vale per apocalisse capitolo 10 versetto 7 prima che leggiate il versetto 7 dovete leggere il versetto 1 2 3 4 5 6 e dovete leggere i versetti 8 9 10 non potete prendere un solo versetto fuori dal contesto William brana era il profeta di dio egli ha usato il settimo versetto per il suo ministero perché attraverso il suo ministero divino tutti i misteri di dio del piano di salvezza sono stati resi noti ma allo stesso tempo apocalisse capitolo 10 rimane precisamente nel modo in cui è e solamente quando il signore come angelo del patto discenderà e metterà un piede sulla terra e uno sul mare allora apocalisse capitolo 10 sarà adempiuto e l'annuncio nel versetto 7 che nei giorni in cui il settimo angelo con la tromba suonerà il mistero di dio sarà compiuto cari fratelli il tempo è giunto di fermare tutti i falsi insegnamenti e possa il fulmine colpire tutti gli insegnamenti dei sette tuoni perché non sono scritturali e tutti dovrebbero sapere ciò che il fratello Branham ha detto il 24 marzo quando ha predicato sul settimo suggello e ha bussato sette volte sul pulpito dicendo i tuoni erano così potenti riferendosi a quella straordinaria esperienza quando i sette angeli apparvero nella nuvola soprannaturale cari fratelli quando verrà il tempo in cui rispetterete la parola di dio e collocherete tutte le cose che il profeta ha detto nel piano di salvezza secondo la parola di dio e cesserete tutte le vostre interpretazioni furbiando le persone solamente se siete nell'elezione rispetterete la parola di dio altrimenti continuerete nelle vostre proprie interpretazioni e nelle vostre direzioni riferendovi al profeta e nascondendovi dietro quello che gli ha detto e fuorviando la gente permettetemi di concludere dicendo questo a motivo del mandato divino che ho ricevuto dal Signore e William Branham l'ha confermato parola per parola per questo ho una responsabilità che non ha nessuno sulla terra di condividere la pura la vera e originale parola di dio e collocare tutto ciò che il fratello Branham ha detto nella santa parola di dio noi non abbiamo due cose abbiamo una cosa il messaggio è la parola e la parola è il messaggio che dio vi benedica e sia con voi e possa questo essere il tempo in cui potremo vedere tramite rivelazione divina e potremo collocare ogni cosa ed essere collocati personalmente nel regno di dio nel piano di salvezza aspettando il ritorno di cristo e preparandoci per quel giorno glorioso dio vi benedica e sia con voi nel nome santo di gesù amén amén